La provincia di Frosinone, sferzata dal maltempo, fa la conta dei danni. Lunga la lista, contetti scoperchiati, alberi caduti sulle strade, autodanneggiate e poi blackout in diversi comuni che hanno aggravato ancora di più la situazione. Il vento ha causato innumerevoli danni, soprattutto agli agricoltori e alle imprese agricole. Le scuole, di ogni ordine e grato, sono restate chiuse oggi nei comuni di Isola Liri, Alata, Iveroli e Damaseno per valutare situazioni di pericolo e di intervenire. Chiuse nella giornata di oggi anche le piste da sci a Campocatino. Lo ha reso noto la società che gestisce gli impianti di risalita per alcuni danni provocati dalla tempesta di vento tra sabato e domenica. I gestori hanno fatto sapere che proseguono le verifiche tecniche e gli interventi di messa in sicurezza dell'intera area sci. Le raffiche hanno toccato, pensate, velocità record fino a punte di 130 km orari. Ora, affrontata l'emergenza, inizia la fase di ripristino dei luoghi. Diversi comuni si stanno attivando per deliberare in Consiglio la richiesta di stato di calamità naturale e richiedere alla regione di intervenire economicamente. Lo hanno già preannunciato i comuni di Paliano, Isola Liri e Damaseno. Ad intervenire in queste ore anche gli agronomi forestali Lazio. I numerosi crolli di alberi, che ancora una volta si sono verificati in molti comuni del Lazio, testimoniano il difficile stato vegetativo che caratterizza il nostro patrimonio arboreo urbano, dichiara Patrizio Zucca, presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Lazio, che torna a chiedere ad istituzioni ed enti di governo monitoraggio di impegno sullo stato di salute dei patrimoni arborei urbani e stradali. I tecnici, dice, sono a disposizione per questo tipo di attività di controllo, che se effettuate con regolarità contribuirebbe a dare risultati decisivi nel contrasto dei crolli di alberi. Bisogna lavorare sulla prevenzione e non, sì che simpliciter, sull'emergenza.